...dividualità esasperata. E così l'uso dell'acido dilaga negli ambienti più vari, forse per un bisogno di evasione. Il fenomeno ha radici profonde. La società dei consumi, la società del benessere esercitano una tirannia dolce, per molti allettante, ma non per questo priva di condizionamento. E i giovani si ribellano. Pessimismo? Forse. Il pessimismo è un lusso di chi ha molto. Così, seguendo Paola, siamo entrati nel fenomeno dell'LSD. Sì, qui a New York ne abbiamo cercato i fatti di cronaca più significativi. Questa è Shelley, una fotomodella già nota negli ambienti di Madison Avenue, un volto di una delle nostre storie. ... ...